Il Monopoli continua ad allenarsi in gruppo in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 16 gennaio, quando la formazione bianco-verde scenderà sul campo del Messina. Continua anche la sessione di calciomercato, è ufficiale l'arrivo di Alessandro Rossi, che ha firmato fino al 30 giugno 2022, con opzione a favore del Monopoli e contro opzione a favore della Lazio. Per quanto riguarda il ruolo di Mezzala c'è una suggestione, appare difficile ma non impossibile, l'arrivo a Monopoli di Alessandro Mastalli, Mezzala classe 1996, attualmente in forza a Lavellino, dove ha raccolto solamente 11 presenze, di cui 3 da titolare. Quello che era considerato un gioiellino quando giocava nel settore giovanile del Milan, ha poi disputato 4 stagioni alla Juve Stabia, raccogliendo più di 100 presenze nel campionato di Serie C e 4 in Serie B. 11 partite quest'anno con la squadra di Braglia, quasi mai dal primo minuto, e una voglia di andarsene espressa a più riprese. L'Avellino dovrebbe cederlo per far spazio nella Rosa, il Monopoli alla finestra, ma l'ingaggio percepito dal centrocampista è completamente fuori dal budget bianco-verde, che però potrebbe chiedere aiuto alla società irpina per il buon esito dell'operazione. C'è ancora tempo fino al 31 gennaio, se Mastalli vestirà ancora bianco-verde, ma non quello dell'Avellino, lo sapremo nelle prossime settimane. Grazie. 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 Grazie.